Ancora disagi per il servizio della raccolta dei rifiuti porta a porta nella zona di Porta Nuova a Pescara, lì dove da parte del Comune c'è stata la proroga di 15 giorni per il ritiero dei Mastelli. Altro capitolo per il centro cittadino dove si partirà quando sarà entrata a regime la raccolta nell'altra sponda del fiume. Oggi in Commissione Ambiente c'è stato l'incontro con il Presidente degli Amministratori di Condominio Marco Pierotti Ivo Petrelli, Presidente Commissione Ambiente del Comune di Pescara, ha portato al centro del dibattito la possibilità, previa approvazione dei condomini stessi, di poter collocare nei cortili o aree private degli stabili contenitori più grandi per raccogliere i rifiuti ed evitare di mettere in vista le buste in strada prima del ritiro. Questa potrebbe essere un'opportunità? Secondo me sì, non a caso oggi ho voluto invitare il Dottor Pierotti, quale referente degli amministratori del nostro Comune di Pescara proprio per cercare di, laddove possibile, predisporre un conferimento sempre porta a porta ma laddove vi sono dei condomini che hanno delle aree condominali private che le stesse potrebbero essere utilizzate per il posizionamento di bidoni, bidoni mi sembra da circa 300 litri, dove gli utenti vanno a differenziare e conferire i propri rifiuti e poi saranno gli operatori della società ambiente a ritirarli e svuotarli e per poi riposizionare all'interno delle aree condominali. Questo secondo me potrebbe essere un suggerimento ma insomma abbiamo chiesto di sensibilizzare tutti gli amministratori di condominio. Una proposta condivisa anche dal Presidente Anacci Pierotti, ma sarà semplice mettere d'accordo tutti i condomini? Diciamo noi abbiamo parlato della possibilità di installare dei bidoni condominali all'interno delle proprietà dove ci sono dei cortili privati e accessibili, così riusciamo a evitare di metterla sulla strada. È vero che però disagi ce ne sono? Certo, disagi ci sono, è normale che sia così perché soprattutto si lamentano i negozi che si trovano in bidoni nel bus davanti alle loro attività però credo che bisogna, piano piano, la soluzione troveremo ma questa è la strada, non ce ne sono alternativa. Per la zona del centro cittadino si partirà invece quasi sicuramente ad anno nuovo.